Del Federico, razio e obiettivi di questo interessantissimo convegno. Grazie. Allora, il convegno sull'enoturismo nasce per cercare di creare un po' di tessuto connettivo tra iniziative regionali, europee, relative alle aziende, relative alle misure, diciamo, finanziarie per favorire e sviluppare il settore. L'Università d'Annunzio, con un dottorato diretto proprio allo sviluppo dell'economia in una logica di sostenibilità, è particolarmente sensibile ai temi dell'agroalimentare. Il turismo del vino è uno strumento importante per far conoscere la cultura di un territorio, no? Certamente, questo profilo è fondamentale, la cultura del territorio, le caratteristiche locali, ma in un contesto sempre più globale. Per cui, diciamo, la centralità che hanno l'Italia, i paesi europei nei flussi turistici internazionali, oggi è messa un po' in crisi da paesi emergenti, l'Argentina, il Cile, l'Uruguay. Il turismo del vino in Abruzzo funziona e come? Funziona bene, ma dobbiamo promuovere il tessuto connettivo, la rete, all'interno della regione e con gli altri operatori del turismo a livello nazionale ed internazionale. Dottor Albertini, insomma, il concetto di sostenibilità, quanto mai presente anche nell'enoturismo, no? Certamente sì, e del resto il legislatore si è occupato da sempre di sostenere il settore vitivinicolo. La produzione vinicola è una delle riconosciute eccellenze italiane, non soltanto per questo il settore va sostenuto, anche perché la cura del territorio che è demandata appunto alle aziende vinicole è un aspetto importante anche della sostenibilità. Ecco, dal punto di vista invece fiscale, Vecchione, quali sono le priorità in questo momento nel settore? Allora, sicuramente la legge delega per la riforma del settore fiscale rappresenta un momento molto importante per il settore agricolo, soprattutto per cercare di colmare il gap che attualmente esiste tra quella che è la disciplina civilistica delle attività agricole prevista dall'articolo 2135 del Codice Civile e quello che è lo sviluppo delle attività agricole. Quindi il legislatore fiscale è molto attento sia alla sostenibilità sia a normare quelle discipline, quelle pratiche agricole innovative che consentano agli imprenditori agricoli di sviluppare al massimo le proprie capacità reddituali.